Stava per salire sul treno per Bologna, alla stazione di Bazzano, dopo la scuola, ma è stata aggredita e molestata da un giovane, venerdì in pieno giorno. La vittima è una ragazzina di 11 anni, l'aggressore è un ventenne di origine colombiana che è stato arrestato dai carabinieri di Bazzano per violenza sessuale su minori. A chiamare il 112 sono stati alcuni testimoni, i militari sono immediatamente giunti sul posto e dopo aver soccorso la ragazzina, sotto shock, hanno individuato il ventenne che si stava allontanando a piedi, anche grazie alla descrizione che la minorenne ha fornito e alle testimonianze raccolte. Il ventenne, domiciliato in una comunità educativa di Bazzano, è stato arrestato e portato in carcere su disposizione della procura.